Musica Ciao a tutti e bentornati o benvenuti Per chi di voi non mi conosce ancora Io ho una grandissima passione per la moda Amo i vestiti, amo le sciarpe O diciamo gli accessori in generale Amo anche i gioielli Ma soprattutto adoro le borse E borsette come le chiamano Per quello se anche voi avete questa passione Per favore iscrivetevi al canale Per sostenermi E anche attivate la campanella Per non perdervi il prossimo video Perché chi di voi conosce i miei video O mi segue già da un po' di tempo Sa che ultimamente sono andata a visitare Cernobbio al lago di Como Vi ho anche fatto un vlog Che vi lascio qua sopra il link Per guardarlo o riguardarlo E in ogni caso siamo andati a far lì una passeggiata E siamo passati da quelle bellissime Viuzze che ha il paesino Questa cittadina Molto turistica ma veramente super carina E ho visto vari negozi Che vendevano borse e borsette Ho visto una borsa Hermes La Birkin Bag Che vi ho fatto anche vedere nel video Ho visto per la prima volta Una borsa Goyard Veramente stupenda Anche quella lì E da un po' che la sto guardando Poi ho rivisto la famosissima Lulu Bag Di Yves Saint Laurent Però in ogni caso non siamo entrati in quei negozi Perché non avevo previsto di andare a far shopping Volevamo proprio solo andare a visitare Cernobbio E così dopo pranzo che abbiamo mangiato veramente da Dio Siamo andati al lago per andare anche a mangiare un gelato E lì c'era il mercatino dell'artigianato Io questi tipi di mercatini li straamo Per quello per me era ovvio che dovevo anche andarci a dare un'occhiata Anche se non avevo previsto di far shopping o di comprare qualcosa E così siamo andati a vedere Per chi di voi che conosce quel video Sa che ho potuto filmare O ha visto Che ho scoperto una bancarella Che vendeva borse e borsette La signora è stata molto gentile Che me l'ha lasciato filmare Se per caso sta guardando questo video Grazie mille ancora che ho potuto filmare la sua bancarella E in ogni caso aveva borse stupende È una signora che viene da Cantù Fa lei le borse, allora proprio made in Italy Con tessuti magnifici Allora c'erano i tessuti Gucci, Fendi, Burberry Prada, Montclair, Chanel e poi tanti altri Veramente cose stupende E come sapete io non sono sempre solo alla ricerca di un nuovo brand Ma soprattutto di nuovi modelli Che non si vedono ancora tanto in giro E per quello quella bancarella lì per me Era un must per fermarmi E quelle borse che faceva o che fa la signora Hanno diverse grandezze Esiste la borsa piccola che custa 35 euro Abbiamo la grandezza media di 40 E quella grande di 50 Io guardando appunto tutta la scelta che aveva Ero super indecisa Quale prende Perché per me era ovvio che dovevo acquistare una borsa Come amante delle borse e borsette E così era E alla fine avevo due borse che proprio mi piacevano un sacco Ed erano sempre il modello grande Una volta modello Gucci E una volta il modello Chanel E alla fine ho optato per Il modello Gucci Questa borsa qua è fantastica Come potete vedere qua si vede il disegno Gucci Anche qua abbiamo il nastro verde e rosso di Gucci Veramente magnifica A me piace un sacco E questa qua l'ho pagata 50 euro Qui vi voglio veloce ancora far vedere il brand Ho lasciato la posta ancora il cartellino Spero che potete leggere quello che c'è scritto Allora abbiamo il sito Instagram Avete anche il numero Whatsapp E si chiama Back by Lella Veramente cose stupende E guardate È da mettere sopra le spalle O sopra la spalla meglio detto E si presenta così Anche una cosa che mi ha fatto vedere lei Quando ho guardato le borse Che veramente mi piace un sacco È che quando la mettete sotto la spalla E tirate giù il braccio Adesso mi rendo conto che la borsa è tutta piatta Perché non ha dentro niente all'interno Ma ci tengo tanto a farvele vedere così In ogni caso quando abbassate il braccio L'apertura della borsa è così chiusa Che nessun altro può metterci dentro la mano Per rubarvi qualcosa L'unica cosa che trovo un po' peccato di queste borse È che non hanno tasche all'interno Allora cerco di farvi vedere l'interno Il meglio possibile naturalmente Perché non è così facile Però di per sé è un buco nero E non ha tasche Però comunque è una borsa fantastica E naturalmente con tutte le pochette Che possediamo Si può organizzare benissimo questa borsa A questo punto per chi di voi vuol sapere di più Quali sono gli 8 must have per la borsa perfetta O per organizzare bene la propria borsa Vi lascio qua sopra il link Di uno degli ultimi video che ho fatto A proposito appunto di questo tema Per quello non trovo che sia un punto super negativo Che non abbia tasche la borsa Perché comunque è stupenda E veramente mi è piaciuta un sacco E così ho portato via questa borsa qua E però pochi passi dopo che ce ne siamo andati Il mio ragazzo mi ha chiesto Ma perché non ti sei presa la borsa Chanel? E gli ho detto che mi sono appena fatta O mi sono appena chiesta la stessa cosa Perché in fondo ho paura Che a casa me ne sarei pentita E lui mi ha detto Che pensa anche lui che me ne sarei pentita Però comunque Io ho deciso di prendere questa qua Perché spendere 100 euro in una volta È un po' tanto E per quello ho detto Vado per questa Che lei proprio si lascia abbinare con tutto Il mio ragazzo però non era convinto E così lui mi ha detto Che a lui piaceva di più quella con il modello Chanel E meno questa qua E per quello lui adesso ci tiene a ritornare alla bancarella E ad acquistare quell'altra Così io quel giorno lì sono ritornata a casa Con due borse E la borsa Chanel è Guardate Questa qua è magnifica Veramente stupenda Anche lei Anche lei è da portare Sopra la spalla Come potete vedere E mi rendo conto Che adesso con la camicetta Che indosso al momento Non va per niente d'accordo Però ovvio Quando la indosserò la borsa L'abbinerò con un'altra maglietta Un altro puloverino Che ci starà meglio Però comunque adesso Ve la volevo tanto fare vedere Questa qua proprio è stupenda Anche lei ha la grandezza Grande come questa qua E lei ce l'ha proprio solo In grandezza grande Invece la Gucci Che ho preso in nero Ce l'aveva anche in misura media Se non mi sbaglio Forse piccola Mi sembra che fosse la misura media Non sono più sicura In ogni caso Aveva anche una grandezza più piccola E poi del tessuto Gucci Ce l'ha anche il tessuto Con lo grigio Gucci Che si conosce già da parecchi anni E appunto anche questo qua Nero Invece del tessuto Chanel Ce l'ha proprio solo questa qua In questo colore Magnifica Veramente mi piace Un sacco Anche lei All'interno Niente tasche Spero di potervela far vedere In una qualche maniera Perché appunto Non è facile Però ecco qua Le due borse Allora Che ho acquistato Adesso mi rendo conto Che così seduta Non me le ho potute far vedere Benissimo Per quello direi Giro veloce la videocamera E ve le faccio vedere meglio E veloce la videocamera E veloce la videocamera Ecco che queste allora Sono le mie due nuove borse Che ho nella mia collezione Veramente non vedo l'ora Di usarle Perché le trovo stupende E se non volete perdervi Un altro unboxing video Vi prego di iscrivervi al canale E di attivare la campanella Se no se avete ancora voglia Di guardarne un altro Un unboxing video Che esiste già Vi lascio qui sotto Dei video da guardare O anche la playlist Se no vi saluto E un abbraccio Ciao Ciao